Allenatori, prima di iniziare questo video ci tengo a fare una premessa veramente importantissima Guardate questo video dall'inizio alla fine Per capire bene e nel dettaglio quello che vi andrò a dire Perché è successo un casino veramente enorme con la ROM di Sole e Luna Extreme Randomizer Principalmente con la ROM di Luna Ma partiamo dal principio Come sapete ormai da tre mesi a questa parte sul mio canale ogni lunedì e ogni giovedì alle ore 14 Esce un nuovo video di Sole e Luna Extreme Randomizer Ormai lo sapete è una serie straordinaria siamo stati i primi in Italia a portarla Ma come ogni mia serie ci deve essere sempre un problema Come abbiamo visto per X e Y anche Sole e Luna sta avendo qualche problema E questa volta un problema veramente grave Perché questo potrebbe essere l'ultimo episodio della serie Ieri sera mentre ci stavamo preparando a registrare Sole e Luna Extreme Randomizer Come facciamo ogni settimana Vediamo che Luna non parte E lì ragazzi a me mi sale il panico perché sapete abbiamo fatto più di 30 episodi Stoppare una serie arrivato a questo punto non è bello Anche nei vostri confronti ma allenatori non è facile gestire questi giochi Cosa vuol dire? Sapete tutti che fare un Extreme Randomizer ovvero moddare un gioco per 3ds non è affatto facile Anche per questo quando voi mi scrivete in privato Federica come fai a randomizzare questi giochi? Come fai a fare le Extreme? Come fai a fare le Egglock? Eccetera eccetera Io non ve lo so spiegare Semplicemente perché non lo faccio io Ma tutti questi giochi moddati Me li cura Shai Il mio amico Shai Che vi lascio sempre in ogni episodio della Randomizer in descrizione Ma molti di voi non la leggono mai È lui che si occupa di tutta la parte tecnica di questi video È lui che mi cura le Randomizer È lui che mi mette i salvataggi È lui che insomma mi modifica il gioco per farlo sembrare più difficile Lui si occupa di tutto Per fare questo Shai comunque utilizza delle sue doti straordinarie Lui è bravissimo e io lo dirò sempre che è bravissimo ed è un grande Anche merito suo se sul canale mio vedete sempre serie moddate Sempre grazie a lui Mi mette dentro la mia SD del 3ds Vari dati che serviranno poi per giocare Questi dati ragazzi tramite questa SD vanno inseriti nel 3ds Una volta inseriti si gioca normalmente Ma cosa succede se alla fine della Randomizer Comunque nelle parti finali perdi tutti i file nell'SD? Il gioco smette di funzionare Ovvero si perdono i salvataggi e devi iniziare totalmente da capo E so che con la parola totalmente da capo Anche a voi stanno venendo i brividi Stavamo per registrare sui Luna Randomizer E ecco qui ragazzi che la ROM di Luna non va più Abbiamo inserito l'SD nel computer e abbiamo visto che i dati erano spariti Non c'erano più dati là dentro E allora ci siamo chiesti Com'è possibile? Ho chiesto a Dani Com'è possibile che hai perso tutti i dati? Come hai fatto? Allora lì ragazzi abbiamo un po' di percorso le giornate Di questa SD Di come è entrata, è uscita, è entrata, è uscita dal computer e dalla telecamera Perché avendone solo una SD Lui la utilizza un po' per tutto E quindi sapete che se tu la inserisci nella fotocamera Molto spesso ti chiede Vuoi formattarla? Se schiacci sì, sei fregato Se schiacci no, vai avanti Può anche essere che l'ha formattata per sbaglio Ma lo escludo Può essere che inserendola nel computer Può aver dato qualche errore E quindi ha cancellato automaticamente tutti i dati Non si sa come funzionano questi aggeggi elettronici di allenatori Però qualcosa è successo Non troviamo più questi dati Ora stiamo cercando di recuperarli in qualche modo Ma ci sta dietro tantissimo lavoro E non sappiamo proprio nemmeno da dove incominciare Io spero che questa serie può rincominciare Ma sicuramente non è così E io vi do appuntamento a lunedì alle ore 14 Per scoprire se questa serie andrà avanti oppure no Se non andrà avanti Probabilmente lunedì vi farò un altro video così Dove vi annuncerò la prossima serie Ma vi posso già dire che sto già preparando la prossima serie Dove uscirà un bellissimo Un bellissimo let's play In tre persone Ed è da tanto che non lo faccio in tre persone Potete già immaginare Chi può esserci in questo let's play Sarà un let's play estivo Veramente ragazzi Un bijou epico Veramente straordinario E uscirà subito dopo sulle luna Randomized Extreme Ora vi faccio una domanda qua sotto nei commenti E ci sarà anche un sondaggio qua in alto Volete allenatori Volete che anche se non riusciamo a recuperare La rom di luna Continua soltanto sole Con la web di Dani Ovvero Dani commenterà la mia partita E andrà avanti fino al dopo Lega Oppure volete che inizia direttamente la prossima serie Questo sempre se non riusciamo a recuperare La rom di luna Ci stiamo lavorando tantissimo allenatori Stiamo facendo il possibile per riuscire a capire Come fare a recuperare tutti i dati C'è dietro tantissimo lavoro Perché una volta che perdi i salvataggi È finita Ma non è detto Perché c'è sempre qualcosa da fare Io vi ringrazio Di aver guardato questo video Fino a questo punto Non sapevo nemmeno se farlo questo video Ma era giusto informarvi Era già successo un casino del genere Tanto tempo fa Quando i giapponesi mi avevano mandato Il mio 3ds in Cile E avevo perso così Il mio 3ds capture Così che me ne hanno inviato uno dall'Albania E non sto scherzando Veramente Me l'hanno inviato uno dall'Albania Quello che sto usando attualmente Però vabbè Queste sono altre cose Non è facile Ripeto Fare extreme e randomizer Quindi allenatori Questo è tutto Datemi un po' di conforto Qua sotto nei commenti Cercherò E ripeto Cercherò di fare il possibile Insieme a Shy Per rimediare A questa cosa Vi ripeto Non so come può essere successo E nulla Sole è a posto Sole è rimasto così Infatti io utilizzo un SD Per la mia telecamera Per il mio 3ds Per il mio computer SD tutte differenti Così che non ci possiamo sbagliare Quindi allenatori Io niente Vi saluto E mi raccomando Scrivetemi qua sotto Nei commenti Se volete Nel caso Se non riusciamo a recuperare Le rom Se la serie continua Oppure no Nel caso Se continua Ci vediamo lunedì Alle ore 14 E preparatevi Perché la serie estiva In tre persone Sarà qualcosa di straordinario Dall'allenatori Vi giuro Sarà qualcosa di incredibile Ma ora concentriamoci Su Sole e Luna Extreme Randomizer Ciao allenatori E speriamo nel meglio E un ringraziamento a Shai Per l'ottimo lavoro Che sta svolgendo in queste ore Ciao